Ciao! Allora, in questo video, dato che sono da poco reduce da un viaggio piuttosto lungo, la tratta a Los Angeles-Roma è stata cosa? 12 ore, più o meno, diretto. Quindi ho detto approfittiamone, ne approfitto per farvi vedere tutte le piccole cosine che faccio, le piccole che mi porto o quello che faccio quando sono in aereo. Allora, ancora meglio se sia da soli o se sia appunto senza bambini, perché sicuramente si ha più tempo. Devo dire però che sono riuscita comunque ad avere il tempo per fare determinate cose, che vi farò vedere, proprio perché una tratta così lunga ho avuto la fortuna che i bimbi hanno dormito per un bel po'. Personalmente, ogni volta che viaggio in aereo, soprattutto, ancora di più se si tratta di una tratta più lunga, scendo o mi è appena spuntato un brufolo durante il viaggio, ho la pelle proprio secca, secca, in una maniera incredibile, e ovviamente l'aria riciclata dell'aereo, l'aria condizionata, non aiuta tantissimo. Quindi bisogna stare sempre molto attento, ancora di più se avete una pelle secca. Allora, voglio cominciare dicendo che io, ovviamente dopo aver passato, dopo che passo il metal detector, quindi posso finalmente prendermi un bottiglione d'acqua, quello lo salgo sempre, è una delle prime cose, idratazione è una delle prime cose, ho la sensazione di gonfiarmi quando sono sull'aereo, quando sono in aereo, quindi è fondamentale per me bere tantissimo. Ogni volta non posso rompere le sacchette all'hostess che alla fine del volo mi odia, quindi preferisco portarmi una bottiglia da due litri dietro, dietro in modo che posso appunto gestirmela come voglio. Nella maggior parte dei casi viaggio senza trucco, almeno con la pelle struccata, se magari voglio truccare un po' gli occhi, però la pelle mi piace tenere la struccata, prima perché voglio dare la possibilità di respirare già appunto l'aria viziata e tutto quanto. Se metto un prodotto, un fondotinta o altro, sicuramente aumento le possibilità che mi venga il brufolo, che mi venga... a proposito, avete visto che mi hanno punto qui? Lo so incredibile. Vabbè, anzi, quelli nelle gambe morsi, le punture di zonzara sulle gambe vanno molto meglio. Grazie per... perché vi siete tutti spaventati appena avete visto, comunque mi avete dato ovviamente come al solito sempre qualche consiglio su cosa fare. Mi piace partire con un buon idratante, una buona crema occhi, se avete una pelle secca nutriente, quindi piuttosto ricca. Durante il viaggio io trovo questi spray utilissimi, e questo è Mario Badescu, questo è 100 ml, quindi a malapena posso portarlo, posso salirlo in aereo. Si spruzza e contiene aloe, erbe varie, acqua di rose, ottimo, rinfrescante, idratante. Lo spruzzo sul viso, lo spruzzo sul collo e anche sul petto, se ho una magliettina un po' più scollata, proprio per mantenere idratate queste zone che sono anche tra le più delicate. Un prodotto che trovo comodissimo da portare, sono le... sono queste fialette, queste fialette comunque che si rompono in... non so se sia in silicone, che si rompono, ne puoi mettere appunto due, tre dentro il beauty case. Il beauty case dipende, dipende da quante cose mi porto. Comunque questa è di solito la grandezza che mi porto, che salgo in aereo, che porto con me durante i viaggi. Queste appunto sono perfette perché puoi prendere... queste sono tutte singole, dosi singole. Ne puoi prendere due o tre, le metti in borsa, appunto le utilizzi. Questa è... si chiama Vitivia ed è pura vitamina, è un retinolo. e se ne resta un pochettino la metto anche sul dorso, sul dorso delle mani, no? Come al solito le mani sono una delle cose che mostra prima di tutte, vabbè sì, il contorno occhi, ma anche le mani, l'età, no? Quindi infatti Madonna porta sempre i guantini, non so se fate caso. Will Prodigieuse Nuxe, Altro prodotto multiuso, olio secco che nutre, ripara e dà morbidezza a viso, corpo e capelli. Non lo utilizzo sul viso, non lo utilizzo sul viso perché io appunto ho una pelle mista, quindi è un po' troppo per me. Se avete una pelle secca è perfetto. Ne basta pochissimo, quindi questo dura tantissimo. Ed è perfetto per i capelli, nel mio caso, avendo una pelle mista, per i capelli e per le zone, gomiti, ginocchia, non so, tallone, tutte quelle zone che sono un po' più secche. Ovviamente nel mio beauty case da viaggio non mancano mai i mollettoni. Sempre, i mollettoni li metto sempre. E cosa faccio? Quando metto il mollettone, per dare un po' di volume ai capelli, vabbè che ve lo fa? Dai vi faccio vedere quello che faccio. Allora, metto i capelli a mo della signora, signora Gammela. Bellissimo, questo è un momento fantastico. Fatemi gli screenshot che mi fate sempre e poi me li mettete in giro. Facciamo così. Cosa faccio? Quindi con questa bellissima, molto glamour pettinatura, sperando che non ci sia nessuno che ti conosca in aereo. E spruzzo questo. Questo è un thickening della Bumble & Bumble, anche questo campioncino, quindi per dare volume. E lo spruzzo sui capelli, in modo che quando arrivo, tolgo il mollettone e scendo dall'aereo e mi arrezzurro proprio che cado, direte, no, con questi, no, capelli un po' più voluminosi, quindi, sì, da tenere in mente. Un altro prodotto che io adoro durante, durante il viaggio in aereo sono queste le maschere, innanzitutto perché appunto sono monouso, sono piccole, le maschere quelle in tessuto sono perfette, queste le ho prese da un sito, da un sito coreano, sono perfette, e cos'è questa? Al sa che? Sono perfette, quante volte l'ho detto perfette? Sono, avete capito? Da mettere in borsa, occupano pochissimo spazio, sono monouso, la utilizzate, la tenete quanto volete, potete tenerla anche tutto il viaggio e poi la buttate. Ne ho trovata una, se io mi ricordassi quale, se io mi ricordassi il nome sarebbe una grande cosa, ne ho trovata una che ha, magari ditemelo se ne avete viste in giro, oppure se sapete di una compagnia che le fa, ho trovato una di queste maschere sempre in tessuto che si applicano su tutto il viso, con, che è una cosa geniale, con le fessure, le fessurine per inserirle dietro le orecchie in modo che non ti cada. Adesso, sembra una sciocchezza, ma è veramente una cosa utilissima, perché, non so voi, ma quando applico queste maschere, poi, no, devi stare ferma, te la devi ritoccare sempre, devi stare attenta che non si muova e non puoi fare niente, invece con questa, te la metti dietro le orecchie e lei sta bella, ferma, non si muove, grandissima cosa. Comunque, queste, ottime, anche questa, sefora, mi piace tantissimo, soprattutto quando, magari non avete, è un viaggio molto lungo, non siete riuscite a dormire, quindi no, siete parecchio stanche, questa è perfetta da applicare 10-15 minuti sugli occhi, per, no, aiutare a sgonfiare le borse e dare un po' di sollievo al contorno occhi. Se ho il tempo e voglio, perché magari, non lo so, arrivo e devo vedere mia zia che non vedo da due anni e non voglio farmi vedere come un mostro, voglio fare qualche cosa, no, per, per dare un po' di colore, mettere un po' di colore sul viso, essere un po' più presentabile. Cosa faccio? BB cream, assolutamente, quindi viso pulito, BB cream, le salviettine sono anche fantastiche da portare in viaggio, no, se volete appunto rinfrescare il viso, aspettate che vado a prenderle. Ecco, volevo farvi vedere le salviettine, queste sono Yes to blueberries, mi piacciono tantissimo, le uso ormai da tantissimo, ottime perché non solo puliscono il viso, ma hanno quest'azione anti-età perché contengono questi ingredienti e questi sono al 99% naturali se vi interessa. Lo ripeto, quello che vi ho fatto vedere fino adesso sono cose che non dovete usare tutte contemporaneamente, ovviamente, poi dipende appunto dalla lunghezza del viaggio, potete utilizzare una cosa, no, queste sono perfette anche da sole per appunto ogni tanto pulire e idratare la pelle. Cosa volevo dirvi? Ah sì, per per ciò che riguarda il viso, dare un po' di colore, chiamiamolo il trucco proprio da davvero, da due minuti, quindi, BB cream per dare un po' di colore, uniformare un po' il viso, la carnagione, il colorito, questo mi piace tanto, qualsiasi correttore, io utilizzo questa perché sostituisce anche la crema per gli occhi, alla protezione, tutto quanto, l'ho parlato in passato, la crema, il no consiglio, il consiglio del dottor pericone, e sulle labbra questo ad esempio è un'opzione perfetta perché è un sì, un lucido labbra però è anche il trattamento contiene contiene acido ialuronico e pro collagene quindi lascia le labbra piuttosto idratate, dà un po' di colore soprattutto se non truccate gli occhi è perfetto per mettere il focus, mettere e dare attenzione alle labbra e poi come al solito mettere un bel paio di occhiali in modo che no, voi scendete così non toglietevi gli occhiali anche quando arrivate alla dogara non toglieteli almeno nel mio caso è meglio se no poi si spaventano e almeno avete no, avete un po' di colore sulle labbra occhialoni perfetti i capelli avete messo lo spray quindi arrivate tipo no, tutte un altro prodotto che io adoro e lo uso tantissimo soprattutto sulle labbra io sono un amante di tutti i balsamo per labbra burro cacao questo è della palmer la formula il burro di cacao con vitamina E mi piace tanto perché è più grande quindi io lo utilizzo solamente sulle labbra però si può usare anche sulle aree un po' più secche idratante al massimo per le labbra per ciò che riguarda burro cacao questo è in assoluto il mio prodotto preferito perché l'odore è appunto quello del burro di cacao e poi mi idrata le labbra davvero tantissimo un'altra cosa un'altra cosa che stavo quasi dimenticando io le acquisto le acquistavo in America adesso probabilmente le devo non so se sono disponibili in Italia o su internet quando durante i viaggi piuttosto lunghi tolgo le scarpe e metto queste calze che sono piuttosto speste piuttosto doppie e sono hanno all'interno aloe sono impregnate di aloe sono ottime perché durante quelle ore che devi per forza tenerle su idrati bene nutri bene i piedi il tallone le zone un po' più secche mi sembra che la marca sia earth earth tropeti non mi ricordo nemmeno come come si chiama di sotto di solito hanno le le i gommini no? in modo da non scivolare quindi se vai in bagno non ti devono sentire perché in bagno non ti puoi neanche muovere come fai a scivolare come sempre ricordatevi che le taglie mignon i campioncini o le taglie mini sono perfette per viaggiare perché appunto sono di solito al di sotto dei 100 ml quindi si possono portare io di solito le conservo proprio in modo da utilizzarle e tirarle fuori durante durante questi questi casi quando viaggio quando mi sposto perché sono perfetti da da mettere in borsa nel beauty case viaggio ed è tutto come al solito spero che abbiate trovato questo video utile se state io resterò qui a Roma se state per partire se partirete divertitevi buon viaggio mi raccomando sempre la protezione state attente divertitevi e tornate belle cariche per per ricominciare una stagione lavorativa scolastica e tutto quanto un grande bacio ciao a tutte ciao ciao Grazie a tutti.